Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qui sul mio canale Oggi siamo su GTA 5, la prima volta che lo porto sul mio canale Ehm, siamo in un LTS, Insurgent vs RPG Fatemi sapere se questo tipo di video, tipo questo tipo di LTS così vi piacciono Già mi stavo morendo male, ma tanto Girati, girati, vai veloce, girati veloce Girati veloce Oh, aiuto Già subito, fin da subito, già devo cambiare veicolo E questa X80 proto qua che ci fa? E io la voglio, me la vado a prendere Grande l'X80 Sì però ci muoio subito forse Ma cosa? Ma va a cagare va Ok raga, il primo non è andato benissimo L'abbiamo perso Ma ora abbiamo le pistoline Si è bugato Grande prova Ora vi faccio vedere io Poco fa siamo morti Da caretini Dai questo tipo di... Ah, ok Ok, saliamo Guardate qua, guardate qua Prima kill No, non c'è morto Dai Per quanto Ok Ci potevo cadere Ma la... Malissima Dai Quello di là sta provando a salire Dai Spawnate Ok Ok No Per quanto Ok 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 No 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 Grande prova Vai la killa così Io raga lo sai che vi dico Ok ho 1500 Perfetto Ho fatto scorte E ora andiamo all'occhioide Ok Perfetto Dai Perfetto Andiamo alla uccidere Perfetto Perfetto No Sei liberato Dai Vieni qua Unito No Provi a scappare Ah Vieni qua Unito Vieni Lercio Proprio Pugli 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 La mia mira sulla macchina E' bellissima L'avete notato E' quello fermo lì che cifo Ok No Non è morto Però io mi spavento Di quello Quindi io mi porto La macchina qua Ed esco Ok Però non riesco A capire Quello dove sta Ok vai veloce Ok Ok Chi lato E voleva Questo di qua Fregarmi Aia E finalmente E raga E vi dovevo dire Sta cosa E siccome Questo di quell'account M'ho dato Io sto registrando Dopo che Che la rockstar Ha Ok No Sei liberato No Dopo che la rockstar Ha Ha Bannato Un sacco Di persone Però a me Fortunatamente Non mi hanno bannato Quindi Volete che continui a registrare Con questo profilo O cambio profilo Ad esempio Con un rango 1 No dai Ma come Dai Vabbè Mi avevo Asciutato Dai Siamo arrivati Al terzo round Perfetto Prendiamoci Di qua Veloce Veloce Corre Ok Perfetto Ma Sono da solo Dai Sono da solo Loro Hanno gli RPG Giusto No Hanno le pistole E uno Fatto fuori Non l'ho ucciso Dai Ma che due Balloon E loro Hanno le pistole Quindi Non mi conviene Fare robe Cioè Non Mi conviene Andare di prepotenza Bensì Di strategia Ad esempio Io metto così Dai vai A terra A terra Grande Grande Sali Sali Ok Grande Ok Scegliamo Dalla macchina Perfetto Se non erro Qui ci dovrebbe essere L'elicottero Dai Dove sta L'elicottero Non c'è L'elicottero Ci dovrebbe essere C'è sempre stato Quale L'elicottero Dove Ok Loro stanno Facendo Io metto Così No Non cadere Ok Ok Gira Insurgent Non cadere Si vola Perfetto Come Non c'è No No Non cadere Mamma mia Conte Inutile Neppure Ho preso Una pistola Dai 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 Se prendeva la pistola Vincit Vincit Ci ritene No Dai Se accade così Dai Almeno uno L'abbiamo 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 Ucciso Ok Sali Oppure Oppure Se vi piacciono LTS Oppure Normalmente I Ligare Normali Sali 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 No Non puoi fare così La manca Due minuti e Quaranta In due minuti e Quaranta Devo fare quella Bellissima Kill Questo di qua Prova a uccidermi Con la pistola D'acqua Va bene Sei intelligente Però a me Preoccupa Ok ok No Non ci è arrivato Allora Ci riprovo da qua Vero Ho pensato di uccidermi Così Allora È proprio Stupido Dai Grande Il mio compagno Ci è arrivato Grande Prova Ok Non morire Però Ci mettiamo All'angolino E partiamo Facciamo la stessa cosa Di pombo Fa Ok 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 Arriva 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 Perfetto Ok No 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 Sono stupido Sono stupido Dai 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 Mamma mia Mamma mia Ce la fai ad andare Diretto Ok Riproviamo Ah Gli prendiamo Da qua Scusate Se Tipo Non parlo Alcune volte Perché Mi concentro E penso E penso Che cosa Devo fare No Arrivaci Dai Io Riprovo Dai Vai vai che abbiamo vinto No Scherzavo Hai Ok Sali Sali da qua Di nuovo Dai Dai Riprova Mamma mia Quanto va lento L'insurgent È favoloso Sì Ma va lentissimo Ok 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 ce l'ho Perfetto Ok Ora Non Cadere Mai Ad esempio No